Grazie a tutti. Buonasera, benvenuti in questo nuovo appuntamento dell'XPG. Siamo come sempre nella sede di Intre, che ringraziamo per ospitarci come tutti i nostri eventi. Ricordo, parte fondamentale delle nostre meetup è la birretta dopo al pub. Momento di aggregazione, nonché di confronto estremo talvolta. Quindi, domanda per prenotare, chi è che c'è? Così almeno... Allora, due, tre, quattro, cinque, 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 cinque. Ok, ottimo. Dunque, allora, volevo un attimino usare questo momento per pubblicizzare un po' delle cose che ci saranno. Stasera abbiamo Fabio Mora come speaker, poi si presenterà lui e ci spiegherà di che cosa andrà a parlare. Allora, ricordo che un evento di XPG è il Book Club, tenuto dal buon Marco Testa. Qui io farei un doveroso applauso, perché serve. L'XPG Book Club è un posto, come tutti i Book Club, dove si legge un capitolo, una parte di un libro che si concorda e poi ci si confronta al riguardo. Ed è ogni giovedì alle 18.30, da remoto. Dopodiché, il 2 dicembre, c'è, secondo me, l'evento forse più di alto livello, più, non so, è una conference, che è una conferenza il cui formato è un formato un po' particolare, perché non c'è una schedulazione fissa, ma sono le persone che vi partecipano alla mattina, in un momento che si chiama Marketplace, a definire qual è l'agenda della giornata. Credo sia il progetto più ambizioso, secondo me, che abbiamo organizzato fino ad ora. Il nostro compito sarà quello di facilitare, però chiaramente la buona riuscita di una conference sono le persone che vi partecipano. Quindi, voglio rinnovare l'invito, insomma. Sono gli ultimi giorni ancora per iscriversi, costa mi sembra 5 euro, giusto per contribuire con i pasti, con il pasto, che è uno. Quindi, insomma, se non siete ancora iscritti, è un'esperienza che straconsiglio, le conference sono sempre più numerose, e a ogni conference che vado, puntualmente torno a casa con qualcosa. Quindi, insomma, provare per credere. Poi, abbiamo appena pubblicato su Meetup, che è, a parte per l'inconference, la piattaforma che usiamo per registrarci, che potete usare per registrarvi i nostri eventi, Il 12 dicembre, che non è tra molto, il signor Michel Murabito, o Murabito, non lo so, che figura di me. La tagliamo, sì, in post-produzione. Ci parlerà di guida galattica per platform engineers e non. Quindi, anche qua, noi siamo qui. L'invito è, chiaramente, di partecipare. Per gli interventi, useremo il microfono, visto che siamo registrati, così almeno anche chi seguirà il talk da YouTube potrà sentire le nostre voci. Quindi, se volete intervenire, mano alzata, che arrivo a darvi il microfono. e io mi levo gentilmente. Certo. Non è un evento ufficiale XP o GBG, ma abbiamo il loro supporto pieno, sono sicuro. Organizziamo qui un Coder Dojo per i bambini dagli 8-12 anni, se qualcuno di voi dovesse avere bambini in quella facilità, magari poi giro anche la locandina sul gruppo. Gruppo Telegram a quale? Vi invito ad iscrivervi, così almeno potete rimanere, non si spamma tanto in realtà, quindi è una cosa molto sobria, però per noi è utile, perché è un altro mezzo con la quale rompervi. Quindi, io... Spammare. Spammare, bravo, esatto. Io mi levo e lascio la parola a Fabio Mora. Grazie per essere qui. Un applauso. Grazie a voi. Non so se questo è aperto, si sente. Abici di... Perfetto, perfetto. Allora, allora, allora... Penso... Sì, c'è una luce verde. A, B, C, D, E, F, G. Ah, ok, sono questioni di prossimità. Così? Più di così, mi sa che... Tutto live, tutto live. Ok. Bravo, lo stavo per dire io al micro. Così, A, B, C, D. Ok, direi che è meglio, non tanto per qui, ma per registrare, quindi... Ok, scusate, ma inizio dopo una giornata tra pair e altre robe, avere un po' meno voce. Allora, mi hanno detto, totale tempo, più o meno un'oretta, giusto? Quanto fate di solito, ci so, ok. Perfetto, allora, giusto per abbassare un pochino le aspettative. Il talk l'ho chiamato così, ma in realtà non so se è proprio un talk, più un keynote, un mezzo keynote, mezzo un conference, ovvero... C'è un tema che mi balla in testa... Forse di qua? Non so bene dove è il ricevitore, ma... Ok. Che mi balla in testa, che ho visto rimbalzare anche ultimamente su un po' di communities, che è questo qua, ovvero si può... Software engineering, quindi l'engineering in termini anglosassone, non l'ingegneria, abbiamo finito all'ordine degli ingegneri italiani, ma l'engineering, si può applicare... Vai e viene, un pochino, però, non lo so, va bene, vado avanti. Si può applicare all'informatica. E quindi, questo talk, questa metà tra talk e un po' più una richiesta di fatto di peer review, no? Per cui serve a me, prima di tutto, perché? Perché è iniziata così, Alessandro mi ha invitato e mi ha scritto, sotterrandosi, ci piacciono le cose sperimentali. E quindi poi ho visto un po'... E ho detto, perfetto, perfetto, perché non andare a chiedere un po' di feedback io? E quindi poi io ho visto questa foto sul vostro... E qui è bello, ovviamente, anche Ferdinando, ma soprattutto mi è piaciuta la lavagna. Anche se comunque Ferdinando non è niente male. E quindi stasera quello che vorrei fare è fare un po' a metà tra un po' di slide, perché ne ho un pochino effettivamente, ma diciamo mi servono più a supporto per ricapitolare quello che secondo me in un po' di anni è successo. Cioè vorrei un pochino ripercorrere la storia dell'informazione. Non si parla di codice, purtroppo, stasera. Non ho slide di codice. Lui fa segno così, perfetto. Quindi se vi aspettavate del codice, purtroppo stasera... Stasera niente. Però parlo di XB, a un certo punto, di XM Programming, quindi secondo me più o meno ci siamo con il tema. Quindi, 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 vi dicevo, l'articolo da cui un po' in queste ultime settimane ho visto i miei colleghi rimbalzare, è questo qui. Per farvela molto breve, è un articolo di un po' di anni fa in realtà, perché è del 2015, che dice ragazzi basta chiamarsi software engineers, perché gli engineers sono un'altra roba, no? Tendenzialmente fanno delle robe che funzionano, quindi, quindi basta, no? In realtà poi, se fate job posting, eccetera, internamente, una buona parte dell'industria, anche io quando ho iniziato, ai tempi non a dot com, avevo, pur non essendo ingegnere io, avevo il job title software engineer. Poi ci sono anche, negli anni, vari movimenti che ci riflettono anche oggigiorno, fanno dibattiti su questa cosa, tipo la software craftsmanship, eccetera, eccetera. Non è tanto quello il punto, cioè, quel dibattito lì, come dice un altro coach che magari conoscete, non so, coach, lui si riferisce programmatore, artigiano del software, Gabriele Lana, porta un po' ad un dibattito sterile. Per cui, non è tanto quello, è più una questione tra impatto, responsabilità, e andare a capire se effettivamente ci sono, al di là di modelli matematici che sono appunto riservati, ci arriviamo dopo, all'ingegneria, scusate, l'engineering con la E maiuscola, e il software dove effettivamente noi andiamo a fare delle cose e poi vediamo che funzionano con il TDD. Per cui, per cui, per cui, vi chiedo effettivamente, aiuto io, perché io intravedo essenzialmente tre punti che hanno a che fare con lo sviluppo software, dove sviluppo software intendiamo, abbiamo un problema da risolvere, l'informatica più o meno è l'arte di risolvere il problema una volta sola, e poi, però, una volta che l'abbiamo risolto, dobbiamo anche tenerla in produzione, sta roba, cioè, finché il software sta chiuso in un repository e non lo usa nessuno, non ha grosso impatto, cioè, magari ce l'ha, però tendenzialmente facciamo software che deve stare in produzione. Per cui, ops, tre aspetti, in realtà quello mi serve tra un secondo, che sono, su cui io rifletto, perlomeno, il software development, software development, poi vedo, il system, diciamo, dev, poi vedo, il system engineering, e poi, in generale, più a cappello, tutto quello che ha a che fare con lo studio di questa disciplina, quindi le metodologie, no? Cioè, i metodi agili, discendono dalla metodologia agile, dello sviluppo del software, e, prima ancora, software accademico, eccetera, eccetera. Quindi, proprio, non scrive più, però, il campo, del software engineering, poco come disciplina. perché ho scritto prior? Perché, eh, di cosa andiamo a parlare? Cioè, che cos'è che mi interessa? Non so se qualcuno di voi ha mai visto, anzi, sicuramente qualcuno l'ha visto, questa roba qui. Eh, non ho mai capito come si legga, Canavian, Sinefin, Canavian, perfetto. Eh, allora, eh, chi non l'ha mai visto? Mai, mai, mai? Chi? Ok. Allora, eh, quando affrontiamo un problema, un gruppo di problemi, eh, possiamo classificarlo per, eh, complessità. Non è proprio come dire, system complex theory, però, eh, diciamo che possiamo intraverrerne la complessità. Gira così, questo framework, eh, con una particolare situazione in mezzo. Perché? Perché, all'aumentare della mia conoscenza, eh, io domino, in un certo senso, eh, un problema, in maniera, mh, più o meno predecibile, mettiamola così. Cioè, ci basta questo, per definire, appunto, eh, questa cosa qui. Sistema è chiaro quando è intuitivo. Cioè, c'è neanche una traduzione in italiano, che ho fatto io. Il problema è semplice, quando, mh, effettivamente è intuitivo. Cioè, se io, mh, riferiamoci per un attimo alla matematica, eh, matematica di base, se devo fare un'operazione algebrica, aritmetica, 5 più 5 fa 10, più o meno, la generalità delle persone la sanno fare questa cosa, Non serve uno studio specifico, nel senso, cioè, è un problema semplice, la conoscenza è disponibile. Se io vado a parlare di qualcosa che richiede una conoscenza più specifica della matematica, che so, analisi di funzione, teoria delle code, devo fare una derivata, devo fare, boh, una catena marcoviana, passo a dover acquisire una conoscenza che ci metto un po' ad acquisire, ed è disponibile. Poi il sistema lo governo, cioè, una volta appreso quel pezzettino che mi manca, ok, vado piuttosto sereno. E poi c'è una parte dove i problemi sono complessi, quindi, dove io, in realtà, devo fare degli esperimenti, cioè, non mi basta più la matematica, ma magari quella matematica lì è inserita nella teoria dei sistemi complessi, e quindi devo avere la conoscenza di quel particolare sistema, software complesso, per andare a governare il sistema. Per cui, qui non solo c'è una conoscenza che non è disponibile al di fuori dal sistema, ma se io non ho esperienza di quel sistema, non riesco a governarlo. Fin qui sono più o meno, ok. E poi, se io vado ancora in sistemi ancora più complessi, dove i vincoli sono un po' più, come dire, carenti, non riesco a intravedere causa e effetto, i sistemi si dicono complessi. Quindi, questo, diciamo, non ho un esempio matematico qui, però, boh, è un po' più, dove giocano le start-up, dove gioca adesso tutto lo spettro di intelligenza artificiale, Open AI, no? Non si capisce bene dove andremo a parare, cioè, non è ancora qualcosa di governabile delineato, ok. E poi, in mezzo, ho, che lì non c'è, la confusione. Cioè, non riesco bene a capire come funzionano le cose, ancora non ci sono regole così definite. Per cui, la mia teoria, cioè, la mia, non è proprio una prior matematica bayesiana questa, però, è che, con il software development, ovvero, creare e costruire il software, siamo arrivati in un momento in cui le cose, diciamo che sono complicate. No. Userò, questo è molto complesso, sì, o forse il verde. ok. Questo, diciamo che, secondo me è complesso, nel senso che, più o meno, i metodi agili, altre cose, sappiamo come fare il software. Poi è faticoso, ci arriviamo, però, più o meno, è complesso. Quindi, qui siamo qui. E, e diciamo che, non è male, cioè, secondo me è un buon risultato, è abbastanza predecibile. Generalmente, nel mondo, io, penso che ci sia della gente che sa far software bene, no? Magari non sono io, però, in generale. Qui siamo caotici. E qui, mi riferisco più a, dev, qui non l'ho scritto, perché appunto il pennarello non mi ha aiutato, adesso non lo ritrovo, grazie. Facciamo un cambio. Ok. Quindi, dev, lo completo. Ops, per semplificare un pochino. Ok. E, vado avanti, finisco, quindi, qui siamo un pochino più disordinati, cioè, secondo me siamo tra il disordinato e il complesso. è il caotico. Eh, sì, è il caotico, il disorder. Ok. Quindi, provo questo, lo chiuso. e mettiamola così. Questa cosa, mi piace abbastanza. Cioè, se mi chiedono di fare del software, ok. Qui, iniziano ad esserci dei problemini, secondo me. Cioè, la disciplina non è ancora così matura. Qui, e dopo ci arriviamo, siamo un po' in una situazione di pericolo. Quindi, stasera, eh, il mio obiettivo è un pochino, ti vi chiedo, solo così non si secca, anche questo. Mi hanno riempito di pennarelli, bellissimo. È un pochino di, ok, posso che, potremmo essere in questa situazione, e magari, secondo voi, siamo in un'altra situazione, no? individuare un pochino quali sono, per questi tre aspetti, ed è una mia rappresentazione, una mia visione, delle sfide. Cioè, ok, qui, nel software development, riusciamo. Qui abbiamo dei problemi, e qui, siamo più lato organizzazioni, economia, anche proprio come siamo percepiti noi da fuori, da informatici. Qui ci sono delle altre challenges, che riguardano ovviamente anche questi aspetti, e poi come siamo messi, diciamo, a soluzioni, perché appunto, se no, rimango anche un pochino troppo nel vago, no? Va bene la prior, però, no? Anche, anche non quantitativa, però. Dimmi. Rekà, dev, complessi, ops? Dev, secondo me, sì, siamo complessi, perché tu, cioè, diciamo, dal requisito alla produzione, più o meno, con XP, ci arriviamo. Qui, boh, con la mia proposta, SRE, DevOps, nella particolare accessione, il sistema reliability in giri, ci sono delle pratiche buone, ovviamente mancano delle cose, e poi questo, diciamo, che ha un po' più a che fare con percezioni di noi, come software engineer, organizzazioni, che a volte ci mettono in situazioni scadenti. Sì, chiedevo solo un recap, quindi, dev, complex, ops, chaotic, tu dici? E qui siamo in una situazione che, ops, complex, chaotic, e metà tra complex e chaotic. Sì, ok. Cerco, cerco peer review, stasera più che altro. Grazie. Grazie a te. Quindi, quindi, allora, software development, eh, mi fermo un attimo qui, anche perché l'interazione è abbastanza complicata. piccolo, eh, piccolo recap di, boh, alcune cose che mi hanno colpito nella storia del software development. È iniziata piuttosto in maniera traballante, eh, quindi siamo praticamente, eh, nel 1968, ancora prima in realtà, e il primo, la prima grande ondata, forse una partenza che era un po' più wannabe, wannabe software engineer, Cioè, NATO conference, eh, quella lì, la conferenza del software engineering, che arriva da un progetto che NADA stava sviluppando, e poi, appunto, la NATO, eh, prima in Germania, poi, con una seconda conferenza, tra l'altro a Roma e in Italia, si dice, ok, eh, è nato il software, ci sono queste apparecchiature, adesso, più o meno elettroniche, che prendono delle spede per scolate, però, eh, scrivere software è estremamente complicato, ancora non sappiamo come fare, e, una delle idee che viene fuori, dopo quella conferenza lì, è, eh, questo, questo paper, qualcuno, lo, il, waterfall, giusto? ok, non avevi il microfono, se no, magari, eh, ok, quindi, in realtà, questo non è proprio, cioè, tu sai già che qui, ci sono queste frecce, che torna indietro, quindi in realtà, ok, però questo qui è il waterfall, l'idea dei silos, no, 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 vai, 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 mi servono queste cose, anzi, quindi, il waterfall, l'idea che, progettiamo tutto dall'inizio, poi, cioè, collezioniamo i requisiti sistemi, sistema, i requisiti del software, facciamo una grande analisi, qui magari siamo già arrivati ad alcuni mesi di lavoro, per dipartimenti stagni, delle organizzazioni, poi abbiamo qualcuno che disegna i programmi, e poi, una volta che abbiamo fatto tutta questa mega analisi di dettaglio, che è tutto previsionale, no, cioè, ci immaginiamo, una roba molto molto lunga, bom, ci sediamo e scriviamo il codice, fatto, una volta che scriviamo il codice, lo testiamo, e poi, lo mettiamo in esecuzione, facile, no, essenzialmente, questa roba qui è l'ingegneria civile, cioè, il signor Royce, che è l'autore del paper, l'autore del paper, confidava un po' che questa cosa potesse essere una buona ipotesi, e il punto è che appunto, più che altro era un'ipotesi, però, buona la prima, c'era bisogno di software, crisi del software, se la googolate, questa roba la trovate proprio come storia, su Wikipedia, software crisis, crisis, e viene fuori questa roba, e bom, scoperchiato il vaso di Pandora, e ok, e tutti, quindi, praticamente succede questa cosa, molte di queste cose che vi racconto stasera, tra l'altro sono ispirate a questo talk, lo dico subito, che mi ha un po' svoltato negli ultimi anni, Real Software Engineering di Glenn Vanderburg, così, citato, citato, per cui, inizia così, c'è questa parte di mainstream software development, che appunto, corrisponde alle organizzazioni, che tentano delle cose, e invece c'è una parte più accademica, appunto, il software engineering, che si diffonde in un'altra area, accademia, quindi, appunto, anche, che arriva appunto da qui, inizia subito un certo dualismo, perché anche le aziende che hanno grossi capitali da investire, praticando quella cosa lì, non ci riescono così tanto bene ad avere un success rate così elevato. morale della favola, passano gli anni, e a un certo punto, come voi sapete, che visto che siamo un programming user group, c'è un momento nella storia, in cui un gruppo di persone, si trovano davanti a una lavagna, anche loro, e tirano fuori questa roba qui, a un certo punto. Non è che arriva da niente questa cosa qui, è una piccola timeline, che ogni tanto mostro, perché appunto dal waterfall, poi siamo passati attraverso il concetto, di software development razionale, poi sono apparsi i primi metodi, i primi metodi, che ancora non si chiamano metodi agili, però appunto c'era l'idea di iterativo e incrementale, cioè io smetto di prevedere, e divento più empirico. E c'era anche da un'altra parte, dico io, facciamo le cose fatte bene, un po' appunto in spirito artigianale, il che ha pagato, il che ha pagato per un grande periodo, fino a che appunto, a un certo punto, alcuni metodi pare che funzionino meglio di altri, in particolare Scrum, nella sua formulazione iniziale, molto diversa da quella di oggi, e Extreme Programming, e poi appunto altri metodi che sono meno diffusi, magari li conoscete, risolvono problemi diversi, Scrum, di fatto, la chiave di Scrum è che usa una specie di timebox di processo, e soprattutto in Italia, che le persone fanno, si freggiavano una volta di dire, ah, io oggi ho fatto mille cose, multitasking, disfunzionalità del multitasking, Scrum ti dice, riduci, va lenta, prenditi un timebox, e prevedi su un periodo, quindi, già lì rallenti è un miglioramento, e poi invece XP, che è una cosa che è più orientata alle pratiche, propone anche delle soluzioni pratiche, non che Scrum non lo facesse al tempo, infatti dopo ci arriviamo, e morale della favola, ha già il manifesto, dopo c'è un'altra cosa che ho notato qui, che mi è interessata, perché viene dal Lean, il Lean di Toyota, quindi radici, anche lì, storiche, produzione industriale, è un'altra storia ancora, però appunto, a un certo punto arriviamo qui, quindi, gli individui di interazione, software funzionante, collaborazione col cliente, risponderà il cambiamento, non so se devo fare un ripassino qui, ma vado avanti, nel caso manchi qualcosa, mi dite voi, per cui, essenzialmente, qualcuno ha mai visto questo video qui? Provo, è un computer Windows, quindi, sono diversi anni, che non lo uso, niente, in contrario, ma non sono proprio capace, questo qui, è come fanno i test, nell'aeronautica, quindi, nell'aeronautics engineering, ovvero, noi abbiamo, uno strumento, particolare, loro ne hanno un altro, e io mi ricordo che quando facevo l'ITIS, fatto, sono perito informatico, avevamo anche il laboratorio di tecnologie, e ci spiegavano, la prova Brin, la prova distruttiva, quindi, c'erano le prove che erano distruttive, quindi, cosa fanno questi signori qui, nell'aeronautica, costruiscono un economicissimo modello, questo credo sia un 737, il video che vi mostrerò è di un altro modello, ancora prima, che è un 787 Max, e fanno una cosa molto pratica, cioè, loro, instrumentano, con, appunto, uno scheletro, che sta attorno, costruiscono quello che devono testare, in questo caso, fanno un load test sulle ali, e poi fanno questa roba qui, con diversi milioni di euro, che se ne vanno. As the tension in the wing increased, the crowd of observers, including many of the people who had lived with the plane for more than four years, fell quiet. We're now loading to 130% of design limit load. The ramp rate is again 75 seconds. Although he was no longer the leader of the team, Alan Mullally was also there to watch. These are the cap-ingegneri of the team. The first checkpoint. 133. Una volta è 35, siamo al 135% rispetto alla 204. Wow. 154. 154. 154. Whichever way you looked at it, the test was a success. 154. Qual'è la cosa interessante qui? Però che cosa fanno loro quando si spacca tutto? Guardate la sua faccia. Quanto è che cosa? Esatto. Sono contenti. Hanno appena mandato in cenere praticamente 20 milioni di dollari o qualcosa di più, io credo. Però sono contentissimi. Perché? 133. 4%. Perché è la matematica giusta. Cioè i modelli a supporto, i modelli che loro hanno prototipato all'inizio, sistema analysis, è giusta. Hanno fatto i conti giusti. Per cui il test funzionale ha dimostrato che la modellazione matematica è giusta e quindi è affidabile. In realtà 134%. Perché 134? Non so, una cosa del genere. Perché quello lì quando si parla di sistemi così critici è un safety factor. Quindi io modello e poi comunque non sono tanto sicuro e aggiungo ancora un safety factor. Si usa un po' dappertutto questa roba. In particolare nell'ingegneria civile, nell'ingegneria strutturale, meccanica, aerospace. Proprio perché io sono sicuro ma parlando di vite e di expectation di cose che devono durare molto lungo nel tempo faccio i conti giusti però comunque un pochino di incertezza. Problema. Questa roba ovviamente costa il safety factor. Quindi non solo arrivare a fare un test funzionale costa ma anche il safety factor di quello che è l'incertezza che è il mio modello pur matematico incompleto perché si fa così, no? La gente si fida molto della matematica e dei modelli però comunque ci aggiungiamo un safety factor. Quindi questa roba è engineering cioè la definiscono ci sono fin qui la possiamo chiamare engineering. Cioè lo fanno tutti però qui non possiamo cioè non è che non possiamo per anni pare che ci sia questa diatriba chi se ne frega della diatriba il punto è che diciamo che il modello del waterfall è stato progettato perché da qui vedete defined qui c'è la modellazione corretta dove modelli matematici teorici sono disponibili che so qui c'è la Brembo giusto quindi hanno la galleria del vento galleria del vento si va progressivamente in anni in anni in anni di meno perché ai modelli matematici la simulazione grazie all'informatica oggi è corretta e quindi si riesce ad avere un feedback loop più breve. Il punto è che se io parto da qui vado praticamente ad evitare il feedback presumendo che il test cioè il feedback sia costoso cosa che non l'informatica se io ho una suite test automatici e poi dall'altra parte ho il codice se io ho una blueprint di un edificio e dall'altra parte ho della gente che lo deve costruire quindi devo fare un piano finanziario devo fare delle assicurazioni devo chiamare i camion devo ordinare il materiale devo chiamare i muratori devo formare devo fare il cantiere quella parte lì è la build questa seconda cioè parliamo della blueprint e la build la parte della build è la parte costosa la parte della build nell'informatica se io scrivo il test se io scrivo il software in un certo modo come oggi sappiamo quindi il principio del test automatico quella parte lì chi la fa? compilatori per cui i nostri piani finanziari muratori no sono i compili faccio maven test e java c compila sotto il cofano o gcc o non lo so il linguaggio che volete voi quelli interpretati poi insomma avete capito si c'è una questa fase qui di verifica empirica è la più economica qui invece è estremamente costosa quindi quell'assunto lì che portava a questa curva è il motivo per cui i metodi agili sono interessanti questa è la curva del costo del cambiamento perché riusciamo a vendere le trasformazioni agili e perché appunto agendo in quel modo là qui sono le fasi del waterfall no requirements analysis designs implementation se io devo cambiare una cosa più in là lo faccio e più mi costa questo non so perché non si vedano lui è non me lo ricordo e lui è come back lui non me lo ricordo però appunto questa è una regressione fatta su il tasso di successo e i progetti che venivano fatti in waterfall in realtà anche lì ci sarebbe da raccontare una storia perché poi appunto c'erano delle frecce che andavano su anche nel waterfall quindi questa regressione è fatta in un modo tipo tipo allora il tuo progetto ha avuto successo prima domanda che facevano e la risposta era sì no la maggior parte delle volte no però anche lì poi c'erano delle eccezioni di gente che rispondeva diversamente la seconda domanda è sceglieresti questo progetto questo processo adesso ancora se dovessi fare software domande di volte ai team e ai product manager e ai project manager del tempo e la terza domanda era quanto strettamente hai aderito a quel processo e praticamente nessuno usava il waterfall veramente un po' come oggi nessuno usa scrum o usa xp cioè i tassi di successo più elevati c'erano quando la gente che aveva skin in the game motivazione cercava di trovare dei meccanismi diversi per fare software dicevo questo cost of change di questa regressione è una regressione su un gruppo di progetti quindi prendetela con le pinze e e questa invece è la promessa di xp di xp programming cioè se tu monti il software in un certo modo allora probabilmente riuscirai a tenere il costo di cambiamento piatto se non addirittura decrescere un pochettino nel tempo ovviamente questa roba non è gratis perché appunto bisogna lo sapete ci sono mille pratiche bisogna dominarle alcune richiedono anni di studio e ah una cosa che non ho detto questo se volete lo potete leggere anche come costo del feedback cost of change ma anche costo del feedback infatti se andate su wikipedia cercate extreme programming scoprite che tutti i metodi agili in particolare quello che piace a me da qui diciamo siamo partiti a ragionare un pochino più in maniera pragmatica almeno dal punto di vista qualitativo è un grandissimo motore di feedback cioè extreme programming non è altro che un motore di feedback che ti forza a chiederti ok sto andando nella direzione giusta su più livelli a varie risoluzioni secondi minuti ore giorni e via dicendo ok se voi acchiappate le pratiche di XP e le mettete su un'altra rappresentazione viene fuori questa roba qui quindi sotto alle pratiche tecniche di extreme programming sono posizionate qui e qui c'è il tipo di feedback che avete a disposizione quindi per programming vi da feedback su metodi statici lo unit testing su classi interfacce poi vabbè negli anni abbiamo anche mutato i paradigmi quindi questa è un po' una semplificazione system metaphoring sul design del software continuous integration sull'architettura non è mia questa rappresentazione è sempre di Glenn e Vandervurg on-site customer va un po' più a vedere le parti di feature priorità e appunto fino ad arrivare a quello che una volta si chiamava short release oggi si chiama continuous delivery continuous deployment in base a dove arrivate alle soluzioni ok vado vedo vedo che non ci sono grossi oggetti che mi arrivano addosso quindi vado avanti però ovviamente questa roba qui sembra perfetta ma non lo è ho preso queste slide che vengono da una delle prime conferenze che ho visto sul PHP quando appunto non c'era forse forse c'era WordPress all'inizio in quest'anno qui ma è intenzionalmente vecchia sta roba perché se io cerco la definizione di quello che mina cioè quello che porta in campo complesso e non ancora perfetto questa roba è il debito tecnico che appunto poi si sparge anche su questa parte qua cioè va un po' a collidere con l'altra parte di operations è un silos quella roba lì ma è un silos diciamo dal punto di vista narrativo non poi pratico so benissimo che i team sono cross funzionali codice pratiche che ostacano il tuo progresso nel futuro qualcuno dice anche in debito tecnico il codice l'hai scritto ieri la cosa che mi diverte qui è lack of documentation codice non testato errori suplessi conoscenza a silos codice confuso inconsistenze codice che è in locale che non hai committato codice senza codice standard e via dicendo insomma questa roba eh bravo questa roba è contemporanea quindi è per questo che dico pur conoscendo molte di queste cose appunto sono passati quanto era 2010 sono passati quasi 14 anni questa roba è ancora molto contemporanea quindi la prima cosa che mi viene vabbè facciamolo dopo perché se no mi metto a fare il cinema dei pennarelli di nuovo dopo sommarezzo un pochino delle riflessioni che ho fatto ora qui è che ok bello sappiamo come farlo poi il farlo è un altro paio di maniche ok però appunto queste robe messe assieme il ciclo di feedback fare attenzione al debito tecnico cioè mantenerlo cioè nella definizione del debito tecnico iniziale non era proprio solo una definizione finanziaria ma era anche un'idea di non far degradare il software se andate a leggere poi come è nata quella roba lì quella metafora addirittura siamo riusciti a convincere quelli che facciano Scrum che il debito tecnico è una roba che fa gestita e infatti almeno nella prima formulazione nella Scrum Guide di oggi non c'è più perché la Scrum Guide di oggi ha zero pratiche tecniche qualcuno ha certificato Scrum? sto dicendo correttamente nella Scrum Guide e allora non puoi più rispondere diciamo comunque che se voi fate la certificazione Scrum sulla Scrum Guide quella da 21 pagine fanno sì certificati è scaduto però quindi non puoi rispondere funziona cioè ma parla di processo cioè ti dice prendi un timebox fai del planning stima stima riducendo l'incertezza promettimelo ciclo di feedback però è sul processo se voi fate la PSD Professional Scrum Developer che allora sei tecnico appaiono queste cose no e queste cose essenzialmente vi invito ad andare a vedere sul sito di Scrum dot org a cosa fanno riferimento spoiler un po' exam programming un po' devops cioè vi dice proprio andatevi a leggere quei libri di Scrum ok per cui ricapitolando cose che secondo me qui nel software development sono da migliorare non è lui cioè sono da migliorare prima cosa evolvere un pochino di metodi perché appunto XP noi siamo qui siamo magari anche in tanti però diciamo che non è più diffuso non è tutti fan XP in Italia e nemmeno nel mondo e magari non è neanche perfetto XP no perché poi è mutato e l'altra cosa è che non sappiamo bene non abbiamo capito come sta roba si insegna cioè qui c'è proprio la componente dell'artigianato cioè insegnare a fare coding non è facile cioè è come dire mio papà ce la fa il mio ame no mio papà mi dice fai un tavolo ok però mi spiega mi fa vedere il progetto però da qui a farlo cioè c'è una componente di artigianato no cioè devo mettermi lì devo provare e poi una volta che ho sbagliato che ho buttato via un sacco di materiale che non sta in piedi eccetera poi magari dopo 5-6 volte mi viene bene tra l'altro affiancando affiancato magari da qualcuno quindi ma un po' una cosa simile rispetto al per programming e qui ci vedo proprio una componente di creatività cioè soprattutto nel software development non sappiamo insegnare ma non sappiamo insegnare in particolare la creatività cioè in tutto l'aspetto di arte di estro cioè questa roba succede anche nell'aeronautica gli aerei sono ispirati ancora prima di essere costruiti a delle storie alla fantascienza agli uccelli cioè non è che gli aerei nascono dalla matematica come per magia i ponti è la stessa cosa i ponti se andate a vedere la storia dell'ingegneria strutturale c'era un tipo che a un certo punto si è messo lì la teoria dell'arco riflesso come la catenaria una collana si dispone è stata fatta empiricamente prima e poi dimostrata solo dopo a livello matematico quindi questa roba appunto engineering a livello creativo difficile da insognare e qui pennarelli a parte ci sono delle cose che negli anni secondo me sono sono venute fuori che sono la prima l'immutabilità cioè abbiamo possibilità di usare linguaggi in questo momento che offrono le strutture immutabili e è una cosa generalmente accettata al giorno d'oggi la seconda è sto parlando proprio di soluzioni e di due don'ts la type safety cioè quelle robe tipo null point exception almeno in produzione oggigiorno forse se non c'è proprio un buon motivo potremmo evitare di scriverle sul codice nuovo e poi appunto queste sono rispetto ai linguaggi di programmazione i nostri strumenti quindi strumenti e linguaggi e XP è una buona soluzione per fare questa cosa e tutte quelle pratiche che avete visto lì e poi appunto per insegnarlo io ci vedo qualcosa di interessante appunto nella craftsmanship e nel serious gaming so che non vorrei dire una sfidata agile reloaded organizza play 14 giusto mi fanno segno di sì sempre più difficile no questo qua da qui in poi sarà tutto rosso una crema questo in altre parole workshop qualcuno farà codev dojo a breve qualcuno farà l'unconference l'unconference è un formato in cui ci si mette molto in gioco code retreat cose di questo tipo kata tutte le cose che servono per spiegare come si fa il software ok passo avanti anche perché il tempo scorre veloce andiamo sotto fin qui appunto cose sparse idee system engineering quindi facciamo un passo avanti quantico parliamo un po' più di ok abbiamo fatto il software dove lo buttiamo in esecuzione le robe qui bisogna andare ancora più indietro là eravamo ok c'è qualcuno che ha di fatto la guerra fredda fa nascere tutta una serie di soluzioni per per fare la guerra che poi portano anche all'internet come TCP IP e altre cose no TCP IP ARPANET reti distribuite appunto i radar qui diciamo che le infrastrutture nascono dai telai i telai quindi i telai per fare la stoffa nel 1800 già e i Carrion anche prendevano istruzioni dalle schede perforate schede perforate che di fatto erano il modo per rappresentare un certo genere di informazione questa è la macchina dei Babbage e Babbage il signor Babbage si era ispirato a quella cosa lì per costruire questa cosa qui che poi è stata appunto anche questa confermata dopo perché per una serie di motivi legati alla meccanica di fatto c'erano degli scioperi c'erano motivi anche di attrito questa cosa lui non la vide mai costruita però l'intuizione era questa lui si era accorto che le operazioni ripetitive dipendenti una dall'altra quindi l'output di una certa cosa che veniva inserito in un'altra operazione che poi veniva inserito in un'altra operazione algoritmi messi in quello che lui chiamava il mulino la CPU quindi prendeva degli input alle schede perforate e poi uscivano output in altre schede potevano appunto essere soggetti a dei grossi errori per di fatto la componente umana cioè la persona umana operazioni concatenate non era tanto brava a farle quindi lui cosa ha detto perfetto ispiriamoci ai tele e vediamo se almeno se si riesce a portare a casa qualche cosa che abbia che fare con l'automazione faccio fare una macchina e quindi poi sto facendo un salto nel tempo la signora Lovelace Ada Contessa di Lovelace che era di fatto per reazione era figlia di Lord Byron un poeta di fatto che aveva lasciato la moglie che dovette crescerla da sola e in reazione la mamma di lei non voleva che lei studiasse letteratura proprio perché il poeta era una specie di pazzo che l'aveva lasciata in condizioni appunto talmente diciamo di rigetto da fare melodio che la figlia ha studiato matematica va a poi completare questa idea tempo dopo grazie a un'altra figura che è Menabrea qui in Italia che era poi uno dei non vorrei dire una stupidata credo fosse uno dei cavalieri credo si possa dire cavalieri del regno d'Italia insomma questo Menabrea trova quello che Bab ci aveva scritto solo che era in francese e cerca una matematica che parla francese Ada Lovelace per completare questo algoritmo faccio appunto un saltino avanti non è tanto questa la storia però lei cosa fa? scrive qualcosa che è molto simile a un test funzionale perché oltre all'idealizzazione di un'architettura scrive anche un algoritmo che dato un input si aspetta dell'output da compilare in mezzo con un'architettura che di fatto ancora non esiste cioè ha immaginato tutto però ha scritto un test funzionale tu lo dici ha detto TDD non ha il microfono ma ha detto TDD TDD su un'infrastruttura tra l'altro che non esiste e questa roba vabbè calcola i numeri di Bernoulli non andiamo poi nei dettagli come i numeri è un algoritmo matematico insomma le cose quindi partono abbastanza in maniera di pancia sensatamente ok schede perforate poi arrivano le valvole poi arriva un po' più di circuiteria integrata anche se appunto le infrastrutture evolvono però tutto si basa ancora diciamo su questa idea che poi evolve negli anni macchina di touring insomma arriviamo a un genere di astrazione che include degli stati appare la memoria eccetera e alla fine arriva il cloud essenzialmente cioè io chiamo qualcuno che con un camion non mi consegna l'infrastruttura e quello lì è il deploy cioè quello lì è il terraform apply e questo al tempo era il git commit quello lì è il master questa è Margaret Hamilton considerata poi una delle progenitrici del termine software engineering forse andando a vedere bene la storia la prima che ha detto ok sviluppare software è un'attività talmente complessa che it deserves an entire field of study quindi il software engineering cioè si merita un intero campo di engineering e lei sempre siamo qui nel contesto della guerra fredda questo è un algoritmo che è chiamato sagge cioè va a coordinare dei radar di terra però l'idea appunto era questa qui ancora cioè le cose stavano lì c'era qualcuno erano in pochi le sapevano fare abbastanza bene ma non erano ancora diffuse queste cose tant'è che il signor Weinberg che forse anche qui è una persona stracitata lo chiudo il pennarello tanto questo era il nero che non scrive più una persona stracitata dice se avete sentito qualche talk di Matteo Vaccare in Italia lui lo cita spessissimo facevamo sviluppo iterativo incrementale già dal 1957 quindi quando effettivamente stavano parlando di fare questa roba qui lui diceva facevamo un sistema lo disegnavamo mettevamo dei pezzi pinti e poi in maniera iterativa andavamo a sostituirlo con dei pezzi veri TDD con i mock più o meno questa è la mia visione perlomeno le cose continuano dal punto di vista elettronico e delle infrastrutture ad andare diciamo con alti e bassi però ci sono delle evoluzioni ancora in un campo piuttosto razionale questo è il paper di Unix Time Shining System perché appunto il multitasking arriva in uno stadio abbastanza avanzato 1978 dell'informatica quando ancora appunto devo ordinarlo con il camion il computer non è così diffuso per cui appaiono i terminali nelle aziende però bisogna anche scrivere i sistemi operativi e con questo diciamo che l'informatica si sveglia su alcuni temi Responsible Engineer lei Lean Software Development Mary Poppindick che appunto dopo Extreme Programming un metodo successivo ancora molto carino se volete esplorarlo è quello diciamo inventato da lei quindi appaiono questi temi ok iniziamo a fare queste cose ci facciamo i missili ci facciamo i software per le banche ci facciamo i software per le anagrafiche di stato ci facciamo i software per le pensioni insomma roba che diciamo non è l'e-commerce che se vendo la magliettina con i pupazzetti e sta giù due minuti è un problema cioè è una roba abbastanza critica e diciamo l'industria si rende conto di iniziare a avere delle responsabilità cioè più che delle responsabilità in realtà io parlerei di impatto e quindi i temi sono ok dobbiamo iniziare a capire come strutturare la programmazione e vanno a vedere cosa diceva Distra bisogna scrivere software fail safe quindi cioè se si rompe cosa succede in che situazione andiamo questo in realtà già se andate a vedere la storia di Margaret Hamilton Margaret Hamilton aveva già i breakpoint in quella pila di codice c'erano già il concetto di breakpoint e poi appunto andando a ritroso responsabilità dell'ingegnere a un certo punto però diciamo che arriva un'altra crisi del software arrivano in maniera super diffusa un po' come oggi gli LLM large language model sono stati scoperchiati come il vaso di Fandora e li usano tutti arriva un'ulteriore domanda in software perché appunto arriva il personal computer a quel punto boom tutti si comprano il personal computer dalle aziende e poi con varie iterazioni arriva in tasca a tutti e succede anche questa cosa qui per cui ognuno inizia a dire la sua non voglio entrare in Microsoft sono ho sentito che qualcuno parlava di open source nella saletta qui dietro succedono anche delle cose che iniziano ad andare in direzioni diverse da proprio quelli che sono l'engineering come diciamo ottimizzare le risorse che abbiamo per fare in modo di arrivare a delle risoluzioni concrete un mio diciamo prof che era appunto lui era un ingegnere con la I maiuscola iscritto all'ordine come immagino molti di voi mi insegnava nell'ingegneria regola zero se conviene si fa un'implementazione di questa cosa che mi ha sempre fatto scattare qualcosa avete presente i motori dei Boeing oppure degli Airbus e i Turbofan sono raffreddati con il carburante io questa roba non ci avevo mai pensato no? controintuitiva però conviene tanto c'è se il motore va a fuoco non è che c'è già del liquido facciamolo circolare usiamolo anche per raffreddarlo quindi quella è un'applicazione dei principi di convenienza cosa che in realtà boh poi infatti voi è arrivato Apache c'è stato Internet Explorer diciamo poi è arrivato l'open source GitHub è stato comprato da Microsoft adesso Microsoft ha dentro Linux però insomma diciamo che arriva il marketing mettiamola così non solo da loro è da tanti fino a che appunto oggigiorno cloud cloud e cloud quindi governo di infrastrutture ancora più complesse su scala ancora più complessa una cosa che però appunto oltre l'elettronica oltre la macchina di Turing oltre l'astrazione su X86 perché ricordatevi che poi noi possiamo studiare partendo dal frontend in su però possiamo parlare di linguaggi funzionali ma sotto l'idea fondamentale dell'informatica finché non arriva il quantum è quella elettronica macchina di Turing X86 fisica giunzione PN transistor tutte queste robe qui c'è qualcosa di interessante anche qui io vedo un po' principi di design interessanti Unix way keep it simple and stupid in altre parole in altre versioni sono quattro principi siamo andati a vedere poi i libri di Rich Danny Rich e altri Raymond ogni programma fa una sua cosa e la deve fare bene ci aspettiamo che l'output di un programma possa essere l'input di altri programmi quindi l'idea di non avere grossa interazione in mezzo l'idea della modularità disegnate e costruite il software inclusi sistemi operativi perché vengano provati frequentemente altro principio e preferite gli strumenti adatti anche ai tecnici meno esperti e alle applicazioni più leggeri e qui ci vede un po' di cose l'idea che queste cose siccome sono difficili da insegnare abbassiamo la frizione l'idea che adesso ci torno qui bisogna fare cose flessibili l'idea di avere degli strumenti che possono interagire tra loro che siano cognitivamente poco complessi e via dicendo però c'è una cosa su cui mi concentro più delle altre che è il 3 quindi disegnate e costruite il software inclusi sistemi operativi perché vengano provati frequentemente non esitate a buttare via le parti goffe e rifatele da capo questa cosa qui è la cosa che più mi piace della unix way cioè che ti dice a un certo punto butta via il codice se proprio questa roba non funziona aneddoto super veloce perché se no sforo troppo un pochino sforerò spero tantissimo è stato fatto anche per il kernel cioè qualcuno si ricorda a un certo punto praticamente il kernel 2.4 aveva dei grossi problemi di allocazione della memoria detto allocazione della memoria hanno buttato via l'allocazione della memoria del kernel e l'ha rifatta da zero non è proprio un pezzo dell'informatica trascurabile quello lì non so quanti di voi usano Kubernetes magari qualcuno usa le macchine virtuali ancora però tendenzialmente quel roba lì fa giurare una buona parte del pianeta ecco cioè del software del pianeta quindi è quello che come impatto che voglio dire cioè è quel tipo di coraggio quel tipo di re-engineering di empirismo e poi appunto andando avanti prima vi ho mostrato un'immagine con tanti server quella lì era un data center di Google Google a un certo punto si accorge che il cloud è di fatto questa cosa qui class SRE implements devop it's what happens when you ask a software engineer to design an operation function ovvero a un certo punto con l'automazione le infrastrutture la virtualizzazione su più gradi no dalle jail unix fino a poi ai container di oggi e sfumature ulteriori tipo lambda eccetera eccetera lì puoi scrivere del software per pilotare il software quindi per pilotare le infrastrutture e questa è una super intuizione io qui ho fatto un super volo pindarico cioè prima vi ho fatto vedere quella di XP di matrice di feedback e qui ho riprovato a fare la stessa cosa cioè feedback e pratica tecnica so che non sono formalizzate queste cose però diciamo su quelle che io nella mia esperienza ho trovato in particolare partendo da qui mischiate un pochino con il lean che sono il secret management l'alert management quindi l'idea di fare un call la telemetria il logging usare Kanban per organizzare i team che operano le infrastrutture le pipeline automatiche quindi tutto ciò che va a supporto del developer developer experience continuous delivery e poi più avanti vado sul processo anche qui sui requisiti torno a ampliare lo zoom dal tipo di vista del feedback post-mortem pre-mortem gli eventi kaisin penetration testing cause engineering self-provisioning architecture engineering error budgeting e dico appunto so che queste robe non sono normalizzate è un tentativo però appunto io ho provato siamo qui per me questa cosa qui è ancora un pochino caotica c'è del feedback incident response and on non so se tutti lo sanno ma è l'idea di fermare il sistema e metterlo in sicurezza se si verifica un evento traumatico viene dall'in fermo la catena di produzione mettiamola così la telemetria e il logging mi dà un'idea su come stanno andando quei sistemi dal punto di vista di sistema e dal punto di vista di applicazione user matrix quanti utenti si logano quanto convertiamo quanto è il check out quanto sono i tempi di risposta e vado in su l'efficienza di un team che fa site operation per una certa piattaforma l'idea di avere il lead time del team di development che corrisponde a delle pratiche cioè offro loro delle build delle pipeline eccetera eccetera uso l'infrastructure as a code terraform o cloud formation o cosa tool per esso per andare a fare ad avere feedback sull'infrastruttura sull'architettura e sull'infrastruttura che ho uso i premortem e i postmortem per avere feedback sulla resilienza e sul time to recovering della mia infrastruttura che opera il software e poi vado su uso gli eventi Kaizen che sono eventi di miglioramento mettiamo un po' di feedback loop per allocare meglio le mie risorse il penetration testing per vedere se c'è qualcosa che posso fare meglio sulla sicurezza specifica per le mie applicazioni qui magari le ho le scan però sono non so ciò che nell'industria è già condiviso quindi la top 10 il chaos engineering se voglio andare a avere ancora più correttezza su cose che non conosco gli unknown non so che domande farmi e quindi provo a rompere delle cose a caso per cambiare gli output metodi formali se qualcuno ne ha sentito parlare assomiglia a quella cosa lì e appunto però sopra la come qui per XM programming c'è l'utente ci sono le priorità ci sono le feature cosa fa la mia infrastruttura cioè come dicevo prima un conto è fare software per un e-commerce che se non vende al massimo qualcuno non guadagna stagione abbiamo venduto le magliette un conto è fare il software di controllo del Apollo 11 o del 737 Max o di un dispositivo medico quindi service level objective e service level agreement cioè qual è l'obiettivo della mia infrastruttura in che contesto sono e qual è l'efficienza attesa la rete telefonica ha un SLA del 99.999 normato per credo regolatori e anche in un certo senso legge però appunto tutte queste cose oggi non sono ancora così ben formalizzate Google ci ha tentato è venuto fuori Kubernetes che è un prodotto interessante ha sicuramente delle limitazioni soprattutto cognitive e quindi questo è un po' dove dove sono arrivato io a buttare lì un po' di cose vado avanti con cos'era il colore rosso yes quindi ricapitolando qui secondo me ci sono delle challenge di sicurezza cioè e dopo sto scrivendo in italiano ho fatto un mischione di scalabilità scalability e perdita di conoscenza è un altro tipo di debito tecnico mi riferisco più a quelle robe tipo assumiamo ingegneri COBOL perché abbiamo ancora S400 in cantina o in un altro termine passando di industria è vero che ancora l'Apollo 11 è tutto lì nel cassetto ci sono delle blueprint ci sono cioè la conoscenza ancora è perfetta oggi rispetto a quel momento di tutta una serie degli aspetti dell'engine però non ci sono più le persone quindi è molto difficile di costruire l'Apollo 11 o l'Apollo 13 eccetera eccetera o che ne so provate a mettere mano all'architettura x86 o amd64 sto parlando del micro codice di processore e non quindi quel genere di software di sistema su cui noi edifichiamo tutto ricordatevi sempre che c'è la fisica e poi abbiamo questo genere di astrazione cioè abbiamo il micro code abbiamo i firmware abbiamo oggi sulle torri radio il software refined radio roba del genere quindi siamo a quel genere di complessità e lì il debito tecnico secondo me se tu perdi il team altro che buzz factor cioè vai in una situazione davvero critica davvero caotica quindi sto parlando di questo genere di perdita di conoscenza e anche qui insegnarlo più per una questione di responsabilità e di scala perché un conto è fare il TDD il FITSBUDS oppure fare vedere come si testa un API REST un conto è testare una colonnina di ricarica di una macchina elettrica perché le batterie non esplodano o un intero apparato di torri radio 5G che è software tendenzialmente ormai tutto TCP IP e un po' di cose di nuovo qui butto lì delle soluzioni e delle cose da non fare eventualmente cose che mi piacciono Site Relability Engineering cum grano salis nel senso che questo poi è una rappresentazione ulteriore cioè va contestualizzata non tutto il software ha bisogno di un team di incident response sto facendo un giochino ok un po' di ricerca qui cioè qui forse le cose hanno iniziano a costare come vi dicevo per la scala che hanno e quindi forse ci sta avere un po' di ricerca scientifica lì ricerca scientifica e accademia e qui tanti ad esempio sui micro kernel usano i metodi formali per dimostrare la correttezza dei sistemi operativi cioè pezzi di kernel che fanno cose molto specifiche servono secondo me dei criteri per definire cosa sono i sistemi operativi cioè quella roba che è data per corretta e tu da developer ti puoi muovere lì dentro con più ampio spettro però non la puoi toccare perché appunto perché garantire la correttezza per adesso costa tanto poi magari tra 30 anni l'abbiamo modellata però intanto adesso costa tanto cioè se io faccio una build e pullo per andare sul concreto e faccio un pull di un'immagine ubuntu su cui magari tutti i vostri container si caricano il jar o la build npm il risultato della build npm e quell'immagine lì ha un bug quell'impatto lì è devastante no? ho anche una libreria log4j questo forse è più in questo spazio qui però appunto un bug sull'allocazione della memoria quello è software di sistema non serve continuare a cambiarlo nel senso è un ritmo diverso siamo ancora alla macchina di storing e implementazioni x86 ARM oggi qualcuno usa altre architetture però cioè non è che un gestore della memoria tu lo cambi tutti i giorni se non stai facendo veramente roba super 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 complessa quindi criteri per capire cosa è software di sistema e questo secondo me a un certo punto serve i micro kernels come vi dicevo che è un'applicazione appunto ancora proprio del principio di ingegneria poche parti perché così non si possono rompere e perché qui ci sono metodi metodi formali fuzzing per dimostrare che quella roba lì è corretta ci sono studi anche su queste cose un po' di recupero dalla teoria delle code per modellare questi problemi qua di scalabilità picchi di traffico cioè se metto il mio spot pubblicitario del mio e-commerce davanti a Fazio o qualcun altro che fa uno share al Super Bowl è chiaro che qui devo fare qualcosa e quella roba lì è modellabile? sì probabilmente sì se vado a vedere un po' di teoria dei sistemi complessi e altre cose che sono forse cose un pochino passate di moda conoscenza che però è lì la frequentiamo poco ma è lì e poi la Unix Way che comunque sembra un modo sto tornando forse a quello che era lo spirito dei metodi agili lo spirito dei metodi agili ok facciamo le cose fatte bene perché la qualità paga questo è un po' più quantitativo che è un po' lo spirito di devops ai tempi e dell'in anche io passo dal qualitativo al quantitativo servendomi dell'empirismo e dei conti vi prometto che tra pochi minuti ho finito vado qui quindi fin qui non so se sono stato più o meno chiaro in cosa intendo tra dev ops anche qui vedete il nome mi viene difficile cioè software development chi fa il software risolve il problema dell'utente con il principio del team cross funzionale non stiamo lavorando separati stiamo tutti con l'idea della t-shaped person quindi qui ho la mia competenza sono un back-end developer e quindi sono super bravo a fare il back-end però ho anche competenze altre competenze no? questa è l'idea del team cross funzionale con persone che usano bene le proprie skill cioè non è che una persona è un silos io magari so programmare bene però tento anche di spiegare le cose non sarà la mia competenza principale ma le persone possono dare anche in altri spettri quello lì era la metafora della t-shaped person t-shaped person sto perdendo la voce quindi tutto questo ok che mi sembrano sfide più interne cioè se io lo raccontavo mia mamma sta roba qui sti cavoli no? come direbbero a Roma no a Roma non direbbero così è un po' più colorito però questa roba qui diciamo che possiamo suonarcela e cantarcela e sono sfide interne sfide con boh criticità questa roba qui diciamo che appunto è un po' più meta no? un giorno era una conferenza è una jail day mi pare e un ragazzo viene lì e mi fa eh ma io non capisco sta roba della gente che si mette lì e pensa di riscrivere tutte le volte le regole dello sviluppo software è come se io andassi a una conferenza di scacchi e si parla per tutto il tempo delle regole degli scacchi cioè un po' ha ragione nel senso il fatto è che le regole dei scacchi sono un gioco e ok questa roba qui è appunto cioè cos'è che vuol dire come la insegniamo come la trasmessiamo come cioè mi sembra che siamo in un certo senso all'epoca della medicina nel quale ancora c'erano gli stregoni però qualcuno aveva già intuito che col metodo scientifico si arrivava da parti più interessanti dal punto di vista dei risultati era tutto un mischione no da fuori cioè non è che come programmatori noi veniamo visti lo chiudo noi veniamo veniamo visti proprio ah cosa fai il programmatore eh sì o il software engineer cioè vado avanti quindi questa roba qui Windows ha cambiato le asci corto ma va bene allora ricapitolando la persona che ho citato più volte questa sera signor Glenn cosa dice software engineering per lui mi piace molto questa definizione spoiler dal titolo esperimenti di engineering applicati all'agile è la scienza e l'arte per i motivi citati cioè io uso la scienza dove mi serve la scienza uso l'arte se voglio fare cose creative no come dicevo gli aeroplani sono ispirati a processi creativi del disegnare del fare con economia ed eleganza clean code economia anche del linguaggio a volte principi di economia da tutte le parti sistemi so that they can really adapt to the situation which they may be subjected questo diciamo è la definizione di software engineering che attualmente ho trovato dopo un po' di ricerche e che mi piace di più vi consiglio di vedere il suo talk però appunto quello che si vede dall'esterno a volte non sempre è questa roba qui cioè questo lo sto facendo per convincervi di questo no maniera più o meno critica no cioè va bene siamo bravi a fare il software pochi a un certo punto era il 2021 mi sono rotto avete capito di cosa stiamo parlando no ok non lo aggiorna più questa slide se esce qualcosa di eclatante in realtà sono uscite robe eclatanti ma non le ho messe questa roba qui in particolare è stata esacerbata dal fatto che a un certo punto questo è il punto di spillo del Milano Internet Exchange e quello lì credo sia il 6 marzo il 9 marzo quando tutta la gente ha iniziato a fare work from home per la pandemia e a un certo punto in questi 3-4 anni di meno 3 anni quasi 4 la gente si accorta che oltre a quelle cose che già avete visto il software ha un impatto sulla vita delle persone per cui cioè da noi dalle cose che facciamo spesso e volentieri dipendono un po' di cose cioè impatto sto parlando semplicemente di impatto a questo non sempre corrisponde una responsabilità ci torno dopo in quasi chiusura questa però è una cosa che boh nella mia esperienza c'è quello lì è il mio page of duty che è il software è uno dei software per chi fa incident management quando qualcosa va online inizia questa roba procedure di escalation pagina passata da 300 millisecondi di risposta a 500 inizia a suonarti il telefono quello è l'incidente più carino che può succedere quando poi in questa situazione era giù tutto ovviamente no quello di cui si stava occupando però appunto ci sono già delle cioè questa roba qui c'è il problema faccio il triage l'esamino faccio una diagnosi test treat c'è questa roba in altri aspetti dell'engineering in altre industrie adesso ve ne faccio vedere un paio da qui io prendo ispirazione ogni tanto quando faccio questi voli pindarici che non sono necessariamente x-in programming però questo è come operano di fatto nei pronti soccorsi cioè stiamo analizzando una serie di cose che con una procedura di triage vanno mitigate poi trattate curate e alla fine si mette una patch di lungo periodo per non far capire per non fare in modo che quella soluzione del problema cioè quella famiglia di problemi si verifichi di nuovo quindi l'idea di fare un call di mettere è l'idea non di tra i vostri capi ovviamente però l'idea se non lo volete fare ok io lo faccio quindi però l'idea di fare software ma anche ogni tanto capire cosa succede quando quello che avete fatto è down diciamo che mi fa cambiare un pochino di prospettiva perché essere svegliati alle 4 di mattina poi alle 6 di mattina poi alle 7 di mattina e sperare che finisce il turno fa crescere mettiamola così fa diventare un po' più vicini alla responsabilità non dico che questa cosa sia giusta non dico che questa roba sia perfetta qui si può sbocciare un'altra disciplina che appunto è tra medicina e aeronautica che è lo human factor cioè vi invito poi se vi curiosiscono questi temi cosa sono gli human factor tutti i fattori fisici psicologici le caratteristiche sociali degli umani che hanno influenza interagiscono con un sistema oppure sono influenzati dal sistema vi fa ragionare su il sistema è te stesso il sistema è gli altri e il sistema è l'ambiente più sul pratico ad esempio nell'aeronautica le persone più flessibili dell'aeronautica sono i piloti perché ok abbiamo costruito il mezzo ma poi la parte ciccia è operarlo col mezzo i piloti hanno tutta una serie di caratteristiche che assomigliano un pochino a quello che fanno i system engineer quando li chiamano e hanno chiamato tutte le società di consulenza non queste quelle diciamo di altro genere che non studiano tanto XP e alla fine chiamano voi perché la M la spala chi la sa spalare quindi nell'aeronautica quelle persone lì che devono spalarla hanno certe caratteristiche sono normate non sto anelando una normazione una normativa nel nostro settore però diciamo che se non lo facciamo noi lo farà qualcun altro io ho questo sospetto e queste cose sono quelle che appunto un pilota deve avere abilitare responsabilità deve essere un buon comunicatore deve essere motivato deve avere una personalità equilibrata deve essere inclusivo affidabile è un conduttore di un mezzo ha delle vite in mano per cui deve risolvere una categoria di incidenti che può scaturire da questa parte dal development del suo mezzo che hanno fatto l'engineer e quindi deve recuperare da una serie di situazioni critiche potenzialmente con tutto il suo intelletto notate bene che se si fallisce questi prequisiti questi assessment si viene rifiutati cioè non lo potete fare il pilota il ragazzo qui farà un talk sul linguaggio tra l'altro forse forse è un altro esempio fraseologia aeronautica si ragiona molto sul linguaggio sulla comunicazione aeronautica cioè io non posso dire cabin crew ready for departure devo dire cabin crew ready for take off perché questa roba è normata perché ci sono stati degli incidenti forse è il contrario non me lo ricordo take off è il contrario grazie però perché perché l'ambiguità può portare a degli incidenti tutte queste cose ragionare sul significato significante riduzione di protocolli comunicativi sono tutte cose che in situazioni critiche possono essere utili e ci si è arrivati nell'aeronautica purtroppo perché la gente è morta ci sono stati degli incidenti quindi ci sono poi delle normative di linguaggio elementare che riducono cioè qui il punto è ridurre l'incertezza e comunicare in maniera veloce e efficiente altra cosa già in parte citata da cui forse vale la pena costruire anche i nostri sistemi pipeline sistemi di qualsiasi genere Kubernetes non è forse scritto tanto con questa roba in mente ma make it easier to do the right thing so it's harder to do the wrong thing se voi entrate in un reparto di ospedale oggigiorno soprattutto in altri paesi prendiamo in Olanda ma anche qui la medicina non è così terribile tutte le macchine sono uguali tutti gli operatori sanitari sono viene fatto training per pilotare in un certo senso quella geneva di sistema cioè c'è proprio un disegno la developer experience del medico e dell'infermiere è normalizzata per ridurre l'incidente cioè se io cerco il bocchettone dell'ossigeno so che è sopra il letto se cerco la CO2 è da un'altra parte quindi il layout di alcune cose è fatto con questi principi di design in mente che vengono dallo human factor e anche da altre cose e poi un'altra cosa quasi finito promessissimo mi armisse gli incidenti non avvengono così cioè questo è un modello di ragionare che viene usato tantissimo in aeronautica ma qui viene riapplicato alla medicina cioè questo è un incidente cioè quando un raggio orizzontale supera tutte queste fette di formaggio si verifica un incidente non c'è mai una causa sola per il quale un incidente si verifica ci sono ad esempio qui l'esperiente narrativo è la protezione durante la pandemia io mi ammalo non per un motivo solo posso proteggermi in vari modi qui ci sono i vaccini qui c'è la quarantena qui ci sono i messaggi qui ci sono i ventilatori qui ci sono il non stare in spazi chiusi cioè non è che una di queste fettine presa di per sé risolva questo problema sono tutta una serie di cose che abbiamo imparato di procedure che abbiamo messo in atto per ridurre piano 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 con responsabilità personali collettive in questo esempio il verificarsi di un incidente c'è proprio quest'idea che l'incidente si propaga anche quando un pod smette di funzionare se noi abbiamo adottato architetture resistenti resilienti va giù tutto è un pod che smette di funzionare e magari io ho degli al check quindi è un po' l'applicazione di questo genere di pensiero che da altri parti in altri tipi di ingegneria è molto più maturo in altri tipi di settore non necessariamente di ingegneria andiamo a scopiazzare che fanno bene gli altri non aspettiamo di reinventare sempre la vuota perché ok siamo informatici abbiamo inventato il TCPIP che probabilmente ha messo in crisi la società dai social network alla chiesa forse anche però non è che dobbiamo reinventare sempre tutto presi da dell'inipotenza possiamo anche andare a vedere le cose che funzionano fuori per cui ho finito ricapitolo solo in questo modo le cose che mi sono venute in mente con il penarello rosso a questo punto dopo tre iterazioni ho imparato qui secondo me ci sono 4 o 5 cose il primo le nostre challenge sono la percezione di chi siamo cioè che mestiere facciamo cioè siamo ancora siamo nel 1800 lo stregone fa lo stesso mestiere del mago taumaturgo invece di quello che vuole fare di Ippocrate che tenta di fare il medico Ippocrate ha fatto un sacco di casino però diciamo cerca di andare verso la medicina qualcosa che curi le persone con un metodo più e e qui appunto cioè oggi è tutto un mischione però nella medicina ad esempio ci sono gli infermieri ci sono gli OTA ci sono i medici di base ci sono i medici specialisti ci sono i medici che fanno emergenza no quello è il loro modo che hanno trovato per organizzare la loro disciplina noi magari avremmo bisogno di un altro non lo so cioè le risposte qui non lo so mi sembra che si delinino degli ambiti però appunto ancora io non li vedo tutti l'altra cosa è che abbiamo delle organizzazioni scadenti non tutte però cioè come appunto ascoltavo l'intervista di Lana pochi giorni fa lui diceva non puoi chiedere responsabilità no cioè come ce l'ha un ingegnere civile a un programmatore se il programmatore nell'interno dell'azienda è l'ultima ruota del carro cioè ci vuole anche una presa di coscienza da fuori che alcuni generi di organizzazioni il silos il prendiamo carne da macello come fanno alcune società di consulenza poi finché il cliente non si lamenta gli diamo i junior e poi solo quando si lamenta tirano fuori le carte degli avvocati gli mandiamo il segno a risolvere veramente il problema cioè se continuiamo a fare in modo che sta roba accada ok abbiamo l'impatto ma non chiedeteci la responsabilità quindi sta roba va hackerata in qualche modo secondo me non ho idea di come va hackerata in realtà vabbè poi ci sono c'è molto studio in questo campo un'altra cosa che vedo è software fuori contesto cioè a volte ci sono dei bug qualche settimana fa era in ospedale ho preso il ticket per fare un esame ho preso il ticket e è uscito lo stesso ID di assegnazione di me e il ragazzo che avevo vicino che ha preso il ticket dopo di me cioè lo stesso ID quello è un problema di concorrenza raga è risolto con le transazioni acide negli anni 70 un altro esempio di questa roba è un altro esempio di questa roba è quelle cose che tipo ok il tizio ha scritto la libravia perché si è divertito l'ha pubblicata su NPM e a un certo punto rompe internet la storia è successa non mi ricordo esattamente quale fosse log4j è un problema di sicurezza però esatto cioè l'idea è quella ci piglio un progetto open source bravissimi grazie che l'avete scritto e però mi devo rendere conto della asimmetria informativa che mi porto a casa e questa cosa forse si risolve qui con certe pratiche però appunto poi non è che possiamo puntare l'idea di quello lì che cavolo l'ha scritto l'ha pure pushato tu ci edifichi sopra un'azienda sì si può far meglio ecco quindi questo lo sommarizzo anche come l'industria immatura e alla fine appunto questa cosa del impatto e responsabilità sono due robe da mettere a fuoco un pochino meglio alcune cose qui ha più che fare con modi di pensare cioè andiamo a vedere cosa hanno fatto in altri campi anche un pochino boh forse io sono uno sporco tecnico quindi non so molta filosofia però nella research e anche Umberto Eco parlava di umiltà scientifica quindi a volte umili nel rimettersi in discussione questo in realtà lo facciamo dappertutto sul feedback è più difficile farlo a livello di disciplina organizzazione però appunto noi qui siamo in XPUG mi sembra che questa roba almeno ci proviamo a farla quindi un po' di umiltà scientifica anche nel riconoscere appunto il valore del metodo scientifico prima e poi dell'engineering come appunto lo raccontano persone più esperte di me l'economia proprio il campo dell'economia cioè l'idea di avere delle risorse limitate e di doverci fare qualcosa siano il tempo siano le persone siano le risorse però se operiamo in azienda anche nelle organizzazioni non è che una ONLUS sia un'organizzazione ma anche loro stanno nell'economia però cioè l'economia anche questa è un metodo che ci può dare una chiave di lettura su quello che facciamo noi e due cose che vi ho citato la medicina e l'aeronautica perché a volte secondo me hanno dei problemi simili ogni tanto fare un call provate poi chiedete più soldi ovviamente nel momento in cui vi dicono ok sei reperibile e poi appunto continuare con appunto un po' di review del passato elettronica non so se la insegnano adesso in trennale l'elettronica forse si forse no dipende forse si prendete ingegneria informatica si ma se prendete informatica pura non lo so l'elettronica la fisica mat almeno sapere cosa sono queste cose qui telco anche cioè qui dentro tutto il internet il TCP IP viene dal mondo telco e l'ultima cosa è quella che in realtà un pochino sto cercando di fare io questo non è un silos è un espediente narrativo qui appunto è un altro campo ancora c'è un autore che ha scritto un libro che si chiama The Beauty of Code The Code of Beauty è un consiglio di googlarlo lui faceva il programmatore e poi è diventato uno scrittore e mette assieme un sacco di cose quindi il mio tentativo è questo qui lo cito di nuovo perché boh è sempre l'ispirazione è il giuramento di hypocrite che fanno i medici quando hai in mano qualcosa di veramente potente e a volte non prendiamoci per il se scrivete non so del software critico tipo quello che dicevo prima ma anche solo SSL anche solo OpenSSL o come criptate le robe dei vostri utenti avete in mano un pochino di responsabilità quindi prima cosa non nuocere e poi vi lascio andando con questo talk che è un altro talk di ispirazione per appunto in un settore che è già stato normato in buona parte perché non so se qualcuno di voi ha scritto software aeronautico io ci ho provato è normato è un tipo di informatica che non vorrei fare forse più con l'elettronica deve essere proprio corretto quel software lì e non è stato normato perché qualcuno da dentro da questi due aspetti qui ha scritto dei protocolli interessanti cioè non è bottom up è normato perché a un certo punto le assicurazioni sono incazzate e anche altra gente sono arrivati i lawyers quelli che con il cookie banner pensano di risolvere tutto per cui cioè il preco poi che prenda sta deriva cioè che la nostra professione venga intaccata grazie basta non so Marco un po' sforato ma ovviamente se ci sono domande io non ho risposte io ho una cosa che volevo dire barra chiedere perché allora i parallelismi tra le varie figure professionali diciamo i vari ambiti sono state tantissime tu hai usato tantissimo quello dell'aeronautica e voglio citare visto che non è qui e ti saluta il buon Nando grande esatto allora io grazie a lui che ho scoperto l'esistenza di quel quadrato composto da caos complesso che ti pronuncia che è gaelico quella roba lì salutiamo comunque può seguirci anche su youtube se vuole no scherzi a parte allora la spiegazione che aveva usato lui che per me è stata illuminante secondo me anche in questi casi può tornare utile per vedere alcune cose che hai detto e tu puoi passare cioè questo cosa nasce perché tu la spiegazione tu puoi passare in senso anti-orario da caotico a clear con delle cose no quindi da caotico puoi raggiungere un coso complesso da complesso puoi passare al complicato e al clear no scusami senso orario non so che qual è il microfono che fa casino sì abc ok perché se tu perdi la conoscenza risprofondi nel caos esatto questo passaggio stai parlando di questo passaggio no io ho sbagliato a parlare intendevo senso orario grazie sono stanco anch'io la differenza tra scenario complesso e scenario complicato è in uno scenario complesso che è dove siamo noi sviluppatori perlomeno tu fai cose non esattamente semplici cioè proprio sono cose complicate perché lo step prima è complicato tu ti porti dietro quello prima quindi sono cose complicate e sono sempre diverse e un altro esempio che appunto veniva citato sono ad esempio i pompieri tu vai a spegnere le case e non è che tutte le case sono fatte uguali e le fiamme sono sempre quelle e quindi tu sai come spegnerne una e le spegni tutte no? emergency esatto quindi e noi siamo qua perché anche quello che facciamo a volte è anche già stato risolto però puntualmente c'è qualcosa che cambia e quindi tu non sai mai che cosa a che cosa ti vai a interfacciare no? sì e quello che volevo chiedere detto questo che mi sentivo di dare questo piccolo contributo se siete d'accordo però per esempio l'aeronautica costruire un aeroplano è complicato perché l'aeroplano è stato progettato è stato testato probabilmente era uno scenario complesso perché non sapevi che cosa però poi l'hanno fatto diventare complicato cioè non è facile costruire un aeroplano però quello è quello rimane diverso è è mutabile esatto il software è mutabile il software è mutabile diverso è il pilota perché tu piloti un aereo che si magari è sempre quello e tutto però le condizioni meteo non lo puoi mai sapere le persone che hai sull'aereo non lo puoi mai sapere quindi e quindi alcune cose non sono riuscito tanto a capirle perché non mi ci rivedo tanto in certe non mi ci rivedo tanto in certe non mi ci rivedo tanto in certe professioni di cui tu hai fatto il parallelismo perché sono professioni che sono complicate però non complesse e quindi per esempio anche il software nell'aeronautica a un certo punto è forse il software ma questo è proprio a sentimento lo dico poi ne discutiamo ne discutiamo magari anche il pub però è il forse il software che più si avvicina dal passare dal complesso al complicato no? perché se è normato l'ambito in cui opera deve essere predecibile esatto e quindi niente ho un po' questa cosa che c'è alcune robe non so se sono d'accordo ma proprio sì sto pensando cioè l'obiezione la vedo sì è sempre l'idea di ridurre la variabilità no? la categoria degli incidenti rispondo a lui e poi semmai appunto non so se andiamo avanti datemi i tempi voi ok e poi so se c'è qualcosa altro che vogliamo appunto ottenere nella registrazione quindi ok sì mi viene meglio spiegarlo appunto allora Levi cioè l'arrenautica è diventata così sicura proprio perché cioè c'è quel modo di pensare della propagazione dell'incidente e quindi in virtù del fatto che non so io la vedo un po' come il plan do hack check che qui appunto va fatto cioè va usata l'automazione per risolvere certe categorie di incidenti eccetera cioè va fatto ha frequentato un pochino di più la questione del post mortem delle operazioni da non fare sulle nostre infrastrutture e va ragionato anche cioè che cosa vale la pena che sia mutevole come tu dici cioè una volta che dicevo prima una volta che ho scritto il sistema di allocazione nella memoria mi serve la mutabilità cioè è così importante no e forse lì appunto il ragionamento sui criteri secondo me va fatto però l'idea è quella lì che dici tu no cioè io riduco la variabilità dell'incidente cosa che appunto nell'informatica l'ho diventato però ad esempio il medico del pronto soccorso questa cosa non la fa perché appunto ha un compendio più simile al nostro tante volte di aspetti o mutevoli che hanno grossa variabilità perché non sono stati ancora magari studiati cioè gli arriva il paziente lui ha tre sintomi e un milione di patologie o malattie o di quindi boh forse bisognerebbe riflettere appunto più sulla variabilità cioè sulla prevedibilità di quello che ti arriva e sul riduce cioè tu più riduci la variabilità di quello che può succedere è più stabile sei e questo lo fai rinunciando alla mutabilità su alcuni aspetti volontariamente nel nostro caso sì ma cioè sono d'accordo oppure oppure appunto se tu vuoi conservare l'idea di essere mutabile devi aumentare secondo me il ciclo di feedback passando appunto per i post-mortem per formare bene il sistema engineer in modo che siano più vicini alla della gente che fa pronto soccorso non so se ti ho risposto sì c'era aspetta c'era lui prima sì ridurre il ciclo di feedback alla fine è cercare di ridurre la mutabilità perché più forte il ciclo di feedback alla fine più stare in certale ridurre il ciclo di feedback sì poi con come dicevo cioè ne parliamo magari dopo però sì l'idea è quella cioè agire è proprio plan do act check dell'in quello lì mi ricollego all'in la ripeto io dai penso che pensi che il passaggio tra complesso e complicato stia nella standardizzazione forse è dato non mi aspettavo eh sì infatti è qui il punto forse cioè i criteri per capire cos'è il software di sistema questo qui mi arrovella perché appunto se tu vuoi standardizzare tutto rinunci a rispondere alle richieste del cliente e via dicendo cioè è proprio il trade off non necessariamente allora secondo me dipende dal contesto cioè dipende quanto quella roba lì è critica cioè xp non va bene per tutto cioè puoi fare se tu butti via il software domani questo erano i cinque livelli di maturità di Weinberg credo che fosse oddio questa roba è registrata poi bisogna chiedere a Matteo Vaccari questa cosa qui però ci torno però l'idea è che secondo me se il software è critico tu devi puntare almeno a qualcosa di governabile cioè io non voglio arrivare non mi interessa arrivare al complicato mi interessa arrivare al complesso cioè ridurre la variabilità a modellarla sta roba perché in alcune in alcune situazioni quelle le prime pagine del giornale non ci siamo più c'è qualcun altro che vuole fare una cosa velocissima poi gli altri ne parliamo dopo al pub lui non mi sta ancora agitando una velocissima un'ora un'ora e mezza gli esempi che hai fatto pilota l'esempio quindi aeronautica la parte di medicina prevedono delle figure altamente specializzate in quello che fanno con un'altra formazione si concordo mentre nel software sembra quasi che siano operai poco specializzati può essere questo una mancanza di maturità del settore eh si secondo me si alla fine dicevo che siamo ancora un po' nella geoparty della medicina del 1800 e secondo me quella roba lì o arriva da fuori oppure ce la dobbiamo inventare noi non lo so come però mi sembra appunto che già quest'idea che cioè a me io sono partito facendo il full stack poi ho fatto il front end poi ho fatto il back end poi adesso sono tanti anni che ho detto basta dal punto di vista cognitivo è impossibile studia tutto cioè bisogna trovare sistemi per comunicare perché magari domani l'intelligenza artificiale risolve la metà dei problemi delle challenges che ho scritto qui però adesso non è così anche perché quella roba li fanno gli informatici quindi vai a vederti come finisce però però sì cioè secondo me bisogna sicuramente trovare delle cose che non funzionano tipo come dicevo qui cioè queste cose qui le puoi fare però ci deve essere una buonissima ragione cioè per buttare via la type safety con i cervelli che abbiamo noi umani cioè ti dà un bello stacco cognitivo cioè almeno sei sicuro che fin lì se un oggetto se un intero è un intero se un oggetto è un oggetto e via dicendo e anche l'immutabilità l'immutabilità pone le basi ad esempio per quello che magari un indomani è software funzionale cioè si può parlare di programmazione funzionale però il problema è che sotto hai la macchina di touring e quindi torna la programmazione mutevole è come fai a dimostrare la correttezza di quella roba lì quindi per tornare proprio precisamente alla tua domanda non lo so però sicuramente cioè rifare un giro in to end di tutto quello che è successo secondo me ogni tanto ci sta dentro per mettersi alla prova e io se dovessi intravedere delle specializzazioni cioè le vedo qui ma nel senso che sapere un pochino di elettronica almeno per sommi capi secondo me ancora oggi è utile però poi magari sbaglio io cioè come extreme programming ti dice che devi vedere la soluzione in to end cioè sapere le potenzialità che questa roba qui fa perché è un x86 o è un m3 non ho idea di come funzioni ARM dentro nei dettagli sapere che oggi tu puoi eseguire inferenza su un microcontrollore che ha dentro le architetture che fanno l'intelligenza artificiale cioè ti porta in una situazione di sei più eco dal punto di vista della selezione dell'architettura perché hai più possibilità di comprendere quali sono le architetture e gli strumenti convenienti e poi giusto in quel determinato contesto posti dei trade off non so se ti ho risposto forse non tanto in parte sì andiamo a bere anche questo è registrato grazie 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 a tutti